L'angolo della volpe. Come un giurista troppo spesso disilluso vede quel che gli succede intorno. Sei un europeo e vuoi fare la carriera universitaria? Beh, ci sono due sistemi. Il primo è quello tradizionale. Ti metti a studiare per anni, cerchi di scrivere cose almeno un po' intelligenti, procuri di scansare gli incidenti di percorso, statisticamente piuttosto probabili, e raggiunta dalla piena maturità scientifica e vinti due o tre concorsi, dalla quarantina in poi puoi sperare di diventare professore ordinario o full professor, come dicono i più scichettini. Qualcuno arriva anche prima, ma non è frequente. C'è però un'altra strada. Ti chiudi in casa per tre mesi che dedicherai non tanto a fare ricerca, ma a redigere, con forme burocraticamente selettive, il progetto di una futura ricerca. Quindi lo sottoporrai a una certa commissione della Unione Europea, la quale, se il tuo progetto sarà stato compilato in modo ineccepibile, e se esso piacerà, ti assegnerà dei sostanziosi fondi, e tu potrai diventare full senza alcun preliminare concorso, in quella tra le tante università che, essendo disposta ad accogliere te, riceverai in dote i tuoi soldi. Si tratta dei cosiddetti bandi IRC e dei bandi assimilati. Ecco che così si diventa professori non per la dimostrata attitudine alla ricerca, ma per il merito di una semplice prospettiva di ricerca, per la mera idea di una ricerca ancora tutta da farsi. Una ricerca che potrà essere svolta molto bene o anche molto male, perché tu non hai ancora dimostrato nulla. Su di te è stata fatta solo una scommessa. E quindi potrai entrare subito in un'aula di università a spiegare cosa? Un'idea? A margine. L'idea di fondo è che l'università, pur di azzuffare quei fondi istanziati dall'Unione, sia risposta a prendersi un professore di prima fascia, la cui competenza scientifica e didattica potrebbe non essere mai stata verificata da qualcuno, e a pagargli lo stipendio per tutta la sua vita professionale. L'operazione in realtà è spesso antieconomica. I fondi IRC, infatti, girano tra il milione e mezzo e i due milioni di euro, almeno nel mio settore scientifico e in quelli eraguagliabili. Uno stipendio lordo di professore ordinario a tempo pieno, invece, può arrivare anche a 120.000 euro all'anno. Dunque, l'università si prende in carico un 35enne con una prospettiva di altri 35 anni di servizio, e per lui dovrà pagare fino al momento della pensione una somma complessiva pari a circa 4 milioni di euro a titolo di stipendio. È vero che l'università si mette subito in tasca 2 milioni, ma in realtà essi non sono un dono, e neppure sono un comodato gratuito, sono un mutuo, e anche piuttosto pesante. Si obietterà che nel frattempo l'università ha acquisito un professore il quale lavorerà per 35 anni, essendo il suo stipendio è stato pagato per circa un terzo della UE. Da questo punto di vista la cosa può sembrare un affare, ma in realtà non è detto che lo sia. In primo luogo perché quel terzo dello stipendio servirà a finanziare l'intera attività di ricerca a cui si riferisce quel progetto, della quale lo stipendio del professore è solo una componente. Quindi, in realtà, il finanziamento sullo stipendio del professore va calcolato secondo una proporzione minore. In secondo luogo, il ragionamento reggerebbe se quel professore fosse stato preliminarmente testato nelle sue attitudini scientifiche e didattiche, il che però non è. Se per caso egli si dimostrasse essere uno scarpone, l'università avrebbe pagato, sia pure in modo decurtato, uno stipendio per avere una macchina che funziona male e che negli anni potrebbe combinare non pochi danni alla ricerca e alla didattica. Più in generale, in questo modo di concepire la funzione amministrativa vi è un bug piuttosto comune e che difficilmente potremmo trovare applicato in un'impresa privata che sia correttamente gestita. Nel settore privato manca infatti l'idea di una soluzione di continuità nella gestione dell'impresa. Anche se l'imprenditore dovesse con il tempo cambiare, la solidità e la sostenibilità dell'attività d'impresa costituisce un capitale vero e proprio che deve essere preservato a prescindere, non fosse altro che nella prospettiva di cedere domani l'impresa al miglior prezzo possibile. Non è sempre così quando si tratta di gestire risorse pubbliche e questo avviene non solo nell'ambiente universitario che da questo punto di vista è una pubblica amministrazione come le altre, ma in ogni caso in cui la persona concretamente chiamata a decidere sa che dopo un po' di anni sarà sostituita. Chi è rettore oggi non lo sarà domani, chi presiede una regione oggi non la presiederà ancora tra vent'anni. Ecco che in questi casi può imporsi un modo di ragionare piuttosto discutibile, che è quello di chi dice adesso ci sono io e cercherò di fare quello che oggi mi darà lusto. Poco importa se poi questa mia decisione dovrà essere pagata da chi verrà dopo di me e ne limiterà la futura azione. L'ente pubblico non è mio né di nessun altro e anche se esso si depauperasse ci rimetterebbe l'indistinta comunità dei cittadini. Ecco dunque che, solo per fare un esempio, si può decidere di costruire un nuovo ospedale anche quando esso non fosse strettamente necessario, senza troppo curarsi del fatto che le rate della relativa finanza di progetto soffocheranno i bilanci dell'ente pubblico per i 30 anni a venire, impedendo di fatto che gli amministratori del futuro possano loro stessi decidere o attuare qualcosa di nuovo e di maggiormente necessario. Il mandato di un amministratore pubblico può dunque essere temporaneo, e anzi quasi sempre lo è, ma le conseguenze del suo operato si estendono oltre il termine del mandato stesso. Si è da attuare una sorta di ultraattività della rappresentatività istituzionale o democratica dell'operato di quell'amministratore su quello del suo successore. È un inconveniente probabilmente ineliminabile, tipico dell'amministrazione della cosa pubblica, e gli unici rimedi risiedono nella coscienza dell'amministratore che di volta in volta è in carica, il quale tuttavia sarebbe bene che fosse consapevole di queste cose, perché in quella indistinta comunità dei cittadini siamo compresi tutti noi, e per la sua piccola parte è compreso anche lui. L'angolo della volpe. Come un giurista troppo spesso disilluso vede quel che gli succede intorno.